Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla strada provinciale 11, Pisana per Fucecchio, senso unico alternato per restringimento della carreggiata, tra i chilometri 4 e 500 e 8 e 500 nel comune di Cerreto Guidi fino al 6 aprile in orario 8.19. ZTL estiva a Firenze dal primo giovedì di aprile tornerà lo stop serale nel fine settimana. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!